Oggi sono qui con il Samu, vero Samu, cosa sono questi? Cotoni? No, ma questi semini qua cosa sono? Delle albizie. Bravo, i semini dell'albizia. Pianta che fa parte della famiglia delle Mimosace, che è molto molto bella, poi fa un fiore splendido in primavera inoltrata, sul rosa, ma veramente bello bello bello. Oggi ci farai vedere tu come andrai a riprodurre la pianta tramite i semi, va bene? Sì. Comunque l'albizia veramente. Ciao Desi, una pianta stupenda perché poi... Questo va bene. Certo amore, questo va benissimo, quindi cosa facciamo? Tu bravo, appoggiali lì, prendiamo i dischetti quelli di cotone, bravissimo, bravo, lo appoggi, poi cosa devi fare? Bagnarlo. Bravissimo, una bella nebulizzata, vai vai, bravo, ancora, deve essere tutto bello bagnato, eh? E' già. Vai, 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 non ti preoccupare. Ok, e va bene, anche se va di là fa niente, tanto di lì... Questa è una scatolina quella dei biscotti, vero? Sì. Ok, adesso mettici dentro il seme, metticene qualcun altro. E' un po' ammuffito. E' ammuffito? Fa vedere? No, perché devono essere belli? No, va bene, va bene, l'importante è che abbia la cuticola integra. Ok, va bene, perfetto. Vedere, facciamo vedere quelli che non vanno bene. Ok, perché vedi che non è nero? Sì. Quindi quello lo scartiamo. Questo? Questi non vanno bene perché sono un po' asciutti e rinsecchiti. Cerchiamone un altro da tutti quei bei mazzoni che abbiamo lì. Aspetta, tieni. Allora, sentiamo. Vai, prova a prenderne uno di là. No. Ah, tu in base al rumore che fa? No. Non c'è anche uno. Prova, guarda che è pieno, prova ad aprirlo. Ok? È pieno, è pieno, è pieno. Se fa tatatata vuol dire che sono pieni di semi. C'è? Perfetto, guarda, metti questo qui. Ok, appoggialo lì dentro. Adesso. Questi? Vediamo. No, quelli no, quelli lasciali lì. Adesso lo... Lo chiudo, lo richiudo sopra. Vai, chiudi. No, chiudilo, amore. Così. No, così. Schiaccia. Ok, che deve aver contatto. Ok, adesso ribagnalo bene bene. E poi gli altri... Ma hai già bagnato perché già... Eh, ma quello lì, poi si deve sempre tenuto bello umido. Vai, vai. Come hai fatto con le lenti? Ma va di qua. Eh, vai, vai, così. Ma niente, ok? Gli altri li facciamo un po' con la terra, eh? Vai, va bene. Vai, va bene. Ma dove cade? Ok, già tanto perché dopo ci devi mettere il seme sopra, eh? Comunque facciamovelo. Fai così, Samu. Li mettiamo un po' così che facciamo la prova. Dopo lo completiamo anche con altri dischetti. Ok, adesso vai con... È bello che è questo lavoro. Vai adesso a prendere i semi. O a bagnarli. Sì, ma prima cerca altri semi. Ma non si vedono poi. Eh, no, giusto, che poi li devi coprire ancora con un'altra terra. Sì, intanto ci sono ovunque. Vai, vai. Ok, vedi, abbiamo fatto altri tre con il cotone. Poi bravo, Samu. Messo la terra, nebulizzata, poi i semi. No, questo è troppo... Deve essere proprio terra, eh? Cioè, terruccio. Guarda, prendila da qua, copri leggermente, poi gli dai una bella nebulizzata. Sì. Bravissimo. E va. No, ancora, ancora un po', copri e schiaccia leggermente con il ditino, eh? Se vedi che è troppo fibrosa, non metterla, eh? È fibrosa, quindi. Bravissimo. Quello va bene, schiaccia un po' così col ditino, bravo. E poi gli dai una bella bagnata. Oh, oh. E fai tutto così, insomma. Questo è un video un po' diverso dal solito, perché siamo a casa, vero? Samu che tu fai lezione. la dad, purtroppo. A computer. E quindi papà sta a casa a dare una mano, vero? Sì. Così? Sì. Oh, dai, dai, che ci manca l'ultimo. Su, da coprire con la terra, amore, e poi... A me mi piace fare questo... A me mi... non si dice, però... A me piace fare questo lavoro. Bravo. Ti piace? Perché mi piace vedere quando crescono le piante. Un cucciolo, eh sì, è bello. Bravo, dai. Bravissimo, schiacciamo leggermente, poi i bagni. E niente. Adesso vedremo, lo teniamo in casa, ok? Sì. E poi vediamo gli sviluppi. Yeah! Bene, ragazzi, abbiamo finito. Buona giornata a tutti. Se vi piace il video mettete un pollice in su. Ciao! 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 Ciao!